L'abbiamo portato qui, c'era anche lei. Va. Noi l'abbiamo aspettato, convinti che prima o poi sarebbe tornato, ma poi è venuta notte, un freddo boia e di lui niente. Lo hanno cercato per tre giorni, anche con l'elicottero, lo hanno detto anche in televisione. Chissà dove è scappato. Siete stati gentili ad accompagnarci. Immagino che lui non ci abbia neanche pensato. Ma con uno che è stato così cosa vuole che pensasse ai soldi? Grazie ancora. Arrivederci, fatemi sapere se si fa vivo. Aspetta, solo un attimo. Andiamo! C'è un bambino che scappa e la sua mamma si dispera perché non riesce più a trovarlo. E dove vanno tutti i bambini che scappano? Perché è così segreto e irraggiungibile quel luogo? Perché le loro mamme non sanno trovarlo? E dove vanno tutti i bambini che scappano?